Un totem fisico e virtuale, ma anche multimediale, per raccontare prodotti e territori. Vetrine e pubblicità sono l'anima del commercio. Questo vale anche per le cooperative di comunità. Il progetto di filo e fibra di San Casciano dei Bagni, in provincia di Siena, ne è un esempio. La cooperativa di comunità per il territorio di San Casciano dei Bagni è una grandissima opportunità, perché per la prima volta le persone si sono messe insieme, si sono organizzate per creare qualcosa che diventi produttivo e che quindi abbia una ricaduta direttamente lavorativa sul territorio. Il totem è un oggetto che esporrà e che porterà all'interno delle cooperative di comunità che sono entrate in rete per questa iniziativa, i prodotti delle cooperative. Condividere i progetti che ciascuna delle cooperative può mettere a disposizione degli altri, come il caso che stiamo presentando oggi, dà il senso di un progresso e di consolidamento di queste esperienze, di vere e proprie imprese che nascono sì dall'impegno volontario, dalla disponibilità, generosità, dal civismo, ma che danno origine anche a occasioni di lavoro.